C'è un ponte speciale che lega la Toscana alla Terra Santa e la Misericordia di Betlemme, attiva dal 2014. Il Patriarca di Gerusalemme, Fuad Tualli, in questi giorni a Firenze, ha visitato la sede della Confraternita Fiorentina, casa madre di tutte le Misericordie. A lui è stato chiesto di assumere la guida spirituale della Misericordia in Terra Santa. La Misericordia ha cominciato da Gerusalemme con un misericordioso Signore che aveva pietà dei malati, dei bisognosi, dei sofferenti e le Misericordie che lavorano qui possono molto bene, anzi è un obbligo morale, far arrivare la vostra carità, la vostra solidarietà, la vostra Misericordia anche a Terra Santa che ha più bisogno che mai di questa Misericordia, di questo tempo di pace, atmosfera di pace. La Misericordia di Betlemme assiste bambini e anziani e vede l'impegno di giovani fratelli delle Misericordie Toscane che si alternano in turni settimanali o quindicinali. Uno scambio che arricchisce tutti, come sottolinea l'assistente spirituale delle Misericordie d'Italia, il Vescovo di Prato, Franco Agostinelli. Mi auguro che da questo nuovo capitolo la Misericordia in genere possa trarre lo spirito adatto per poter rinverdire quelle che sono le proprie origini e quindi agirne di conseguenza e per la gente di Terra Santa la Misericordia costituisca veramente un punto di riferimento del grande bisogno che in questo settore laggiù stanno vivendo. Il progetto non si ferma e l'impegno delle Misericordie Toscane, grazie anche alla disponibilità di alcuni medici, punta ad aprire in futuro nuovi servizi. Presso la sede della Misericordia di Betlemme e presso l'ospedale Caritas di Betlemme presto sorgeranno due moderni poliambulatori a servizio di tutte le popolazioni, di qualunque fede e religione che abbiano bisogno del nostro aiuto così importante, così significativo come ci è stato spiegato da tutte le autorità in quella terra così martoriata.